Comprare casa diventa più sicuro grazie allo standard operativo pensato da FIMA a Confcommercio come supporto pratico all'attività quotidiana degli agenti immobiliari, una sorta di manuale di buone prassi presentato alla categoria nella sede di Confcommercio ad Arezzo. Questo standard operativo è praticamente un manuale delle buone pratiche, non stiamo inventando niente, stiamo solo riaffermando alla nostra categoria ma soprattutto all'utenza in generale che se vuole, perché il mercato è libero, potrà avvicinarsi a noi con serenità. Un agente immobiliare FIMA con Confcommercio sarà in grado di guidare tutte le fasi di una compravennita immobiliare a 360 gradi. Ecco il messaggio che vogliamo trasmettere e che ribadiamo con forza. Ci mettiamo la faccia, ce la metto io in questo momento come rappresentante, come presidente toscano, perché noi abbiamo condiviso questo standard operativo con tutte le altre province toscane, però mi piaceva oggi, è partito da qua nel 2016, essere qua a ribadire questo concetto. Il standard diventa importante perché manca una legge di riferimento per la categoria degli agenti immobiliari, ovvero una legge che disciplini il contenuto dell'attività dell'agente immobiliare. E allora il predisporre uno standard, un percorso operativo che contenga le best practice del settore della categoria, ovvero i servizi migliori che l'agente immobiliare deve fornire al proprio cliente, rappresenta uno strumento valido non soltanto per gli agenti immobiliari ma anche per i clienti consumatori che sanno quindi cosa aspettarsi, cosa dover chiedere e cosa attendersi da un operatore qualificato, preparato e professionalmente competente. Il mercato come va in questo momento? Se alla fine del 2006 eravamo a un punto più alto, che abbiamo toccato a circa 900 mila compravenditi nazionali, abbiamo toccato il punto più basso alla fine del 2013 con 392 mila. Abbiamo chiuso quest'anno a circa 580 mila, quindi dal 2014 in poi c'è stato questo trend. Però per contro, qual è la contraddizione? Che i prezzi sono continuati a calare per il decimo anno consecutivo. E questo rende praticamente un po' difficoltoso la svalutazione del patrimonio immobiliare nazionale e quindi anche a retino. E perché questo? Perché la mancata riqualificazione, come è avvenuto in altre parti d'Europa, delle nostre province, dei nostri quartieri, fa sì che questo, una delle ragioni, che questo patrimonio si deprezzi sempre di più. Ora noi abbiamo avuto anche una congiuntura estremamente favorevole per i mutui. I finanziamenti in questi anni sono stati, continuano ad essere particolarmente positivi per tutte le famiglie che si volevano avvicinare. Quindi il trend diciamo che dovrebbe rimanere questo, prezzi bassi, mutui buoni, chi vuol comprare meglio periodo e difficile che lo trovi.